...e varie epidemie o altre cose, c'è un momento in cui ce le incontriamo dalla Germania, da altre zone e sensibilmente sono molto più, come si dice, molto più attenti sui nostri prodotti, un pochettino più distratti. Passo la parola a Daniela Teria per l'azienda d'Incora Mortellino. Dell'olio che abbraccio con grande passione perché rappresenta la nostra occasione per portare sul mercato un prodotto. Mi rendo conto che poter viaggiare sull'ordine di famiglia attraverso un rapporto diretto con il consumatore finale è quello che va a fare la spesa. In realtà mi piace passare prima attraverso una premessa che riguarda la prima PAC, la prima politica agricola. In questo passaggio abbiamo qui sulle due, orientate più sui prezzi di mercato, sul piazzamento del prodotto, verso, cioè obiettivi che diano più importanza al fattore, collocare benissimo poi la ricerca e il lavoro che stiamo facendo noi due come attraverso, che abbiamo noi verso le generazioni future, lasciare a loro un mondo meglio conservato. Cosa che per noi fino a qualche anno fa era abbastanza...